si perde troppo tempo e anche decide chi è se salgo io, se salgo di tu a destra, se metto il piede destro o quello di sinistro entriamo, basta si perde troppo tempo, troppo tempo si perde ci mi ha messo poco perché ognuno sapeva dove doveva andare la squadra che rimasta l'era ultima è chiaro perché la Giclo era sbloccata perché doveva abusarne due è entrato Ozone ci siamo accorti che dobbiamo usarne tre ho già entrato prima c'è il video tu sei morto già dal tuo cadavere l'hanno preso il Merino no, ho piaciuto il cannone da questo vicolo tu sei morto già dal tuo cadavere l'hanno preso il merino no, negativo va bene aspetta, lo sono vado un attimo a cercare no, non sta forse a bisogno di vivere quindi spawn vicino agli elicotteri andiamo a prendere è con noi intanto ci dobbiamo passare là è infatti aspetta, vediamo se Ozone è dentro Ozone è dentro, si Ozone ci sei? va a diventare in squadra con noi? no, tecnicamente ma con gli altri ti sentiamo Ozone ok, ora sono in base elicotteri ah, va bene e veniamo a prenderti e Ozone è in base elicotteri e sedite a bordo, andate a prendervi ozone non c'è qua ah, è vero Ozone è in il trenco del 41 perché ti assegno all'altra squadra che l'altra squadra sono qui d'assalto quindi devo essere di più sono sempre ultimo vergognoso, sono le 10 ah, ma io sto attento capito cosa dici? no entrano si si allora bene che è quella allora bene che è quella vai 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 ozone mi ricevi? anche se poteva stare vai partiamo passino allora stiamo arrivando con con le jeep sali sulla jeep non armata poi ti spiego tutto 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 abbiamo perso 5 minuti ragazzi ragazzi stiamo scastinando a breve siamo pronti adesso quanto va bene lo sento senza anche io perché si è vicino senza direzione e senza lontananza aperto io non vi scordo dei tappi ok ragazzi siamo pronti possiamo partire vai 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 partite non sali di fianco aspetta zippo un attimo vuole salire accanto vai vai voglio vederli scommare vai partiamo 92 minuti di applausi grazie